bene allora ritornati su factorio come vedete in alto dobbiamo sbloccare ecco vedete abbiamo sblocato e adesso vediamo cosa ci dice il dobbiamo costruirci un'automobile allora vediamo un po' eccola qua praticamente ci serve il motore ovviamente ci serve il motore per costruire il motore dobbiamo fare tubi perché ingranaggi, tubi e ingranaggi, piastre ne abbiamo allora vediamo due tubi e per fare il motore ci serve 8 quindi 16 tubi ci servono quindi facciamo ok gli ingranaggi li dovremmo avere e quindi costruiamo questo motore questo schermo non può essere assemblato a mano ah è realizzato in macchina assemblatrice la macchina assemblatrice noi l'abbiamo qui la posizioniamo qua vicino a questa ah vedete qua dobbiamo mettere praticamente intanto abbiamo i tubi contati quindi quando finiscono i tubi siamo a posto bene ovviamente per la macchina serve il motore adesso vediamo che macchina sarà se è una macchina blindata o chissà cosa vedete qui ho sistemato tutto quanto rimane solamente un po' di carbone qua perché non c'è più ora in realtà potremmo fare ancora qualche lamiera ma invece ci troviamo già abbastanza quindi facciamo altre questo per liberare un po' di posto niente di che qui sopra anche tutto quanto a posto ci sono queste acciaio che gira vedete questi qui vedete è verismista qui c'è anche una bella di rame che l'ha messa sull'altro però rimane sempre sulla corsia interna non si sposta non va sull'altra corsia mettiamo sempre un occhio qua alle nostre vitellatrici vediamo anche il nostro cuore del lavoro ovvero la caldaia la caldaia anche qui è rifornita però non sono sicuro che funzioni questo braccio in teoria è giusto così com'è spero che non va da... no no è giusto perché la freccia va verso la caldaia quindi è giusto così com'è qui ovviamente gli manca un pezzettino ma l'ho tolto io volutamente perché sennò c'è troppo materiale che gira lasciatela così qua è qui a posto volevo vedere qui se c'è la... vedete c'è da sistemare questo questo la mettere qua questo la mettiamo noi facciamo lavorare queste caldaie sennò ah quello l'aveva messo sull'altro nastro vedete questa qui pesca ogni tanto sì abbiamo ancora i due nidi questo e questo però adesso vediamo con la macchina dove dobbiamo andare in realtà potremmo adesso distruggerne uno ok ho costruito il motore adesso vediamo ci siamo ci siamo una cinque piastre forse lascia la pala a piastre ok la macchina è costruita adesso non ho capito dove ce l'ha lasciata ah nel vento ok possibile la far benzina composa vediamo qua una marea di... ah vedi che c'è l'area è armata bene allora potremmo fare facciamo questi caricatori un po' strani però credo che non abbiamo la... la ricetta proviamo così come facciamo entrare eeeh entra nella macchina usando invio ok rifornisci l'auto e prendila per un giro di prova che può salire a bolla ok ah rifornisci l'auto e prendila per un giro di prova che può salire a bolla che vedi rifornisci l'auto ritorno non so se mi fa andare a distruggere i vidi mi sono divertito abbastanza, per esempio un ingegnere dovrei prendere le mie cose per il viaggio, non so mi caccerò ah riempi il bagaglio con dei materiali ok allora, aspetta mettiamo la macchina si allora piazza di ferro ferro di quattrocento l'abbiamo l'abbiamo per sempre allora una due tre e quattro quattro sei la poi rame mettiamolo qua vicino ci rivediamo un po' di inventario torrette venti torrette caricatore nell'abbiamo ne abbiamo carbone ne abbiamo allora venti torrette credo che sia la cosa più impegnativa da fare allora torrette 22 ne possiamo fare, siamo giusti giusti praticamente qui ne avanzano due ok allora, caricatori allora, finiamo di prendere le nostre prendiamo 41 ma in realtà ne sono solamente 5 se ne salvano 5 bene 154 è carino un po' più ne possiamo fare non ho capito bene il perché è un po' con ferro allora ferro è un po' con ferro perchè sono da solo ma tutto quanto in in acciaio non ho capito bene il perché non ho capito bene il perché il ferro viene da qua però se io lo metto vedete che me lo trasformo in acciaio questo è in ferro allora questa qui che me lo trasformo in acciaio non disabilito il braccio quindi questo lo giro questo è rame questo è in acciaio e ora anche questo disabilito e anche questa perché se no di acciaio va bene scusate ferro va bene questa no questa qui è anche la p3 è anche sbagliata qua 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 anche questo lo giriamo ok in base a quello che mi serve metto i bracci giusto ok allora qua possiamo rimettere il nastro che manca per far partire la posizione ok e vediamo se in giro c'è qualche la mira da usufruire ok qui è carbone qui è carbone poi a posto poi a posto a posto e invece anche qui sarebbe per farlo per farlo vedete vedete sì ci sta producendo c'è ancora una cosa d'acciaio una trave d'acciaio chisiera ok ok ci mancano solamente i caricatori che aspettiamo un attimino in realtà in realtà noi ne abbiamo qui 45 qui ah vedi questa qua è in azione questa qua devo disattivarla deve rimanere eh no io la voglio voglio la mia la non voglio ok adesso è veramente tanto direi che basta basta fare clic con il tasto destro del mouse per disattivare la anche qua direi che eh ok credo che sì c'è ancora qualcosa di acciaio che è 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 praticamente il nastro che fa diventare il ferro o ingranaggi o nastri ma sono tutti disattivati questi quindi tutte le risorse per fare il ferro possono liberare questa cassa guarda qui un po' di tutto la cosa tu dici da via quelle che interessano a noi ovviamente quelle funzioni sono quelle col fuoco ovviamente in realtà qui c'è solamente una che funziona ma non posso scegliere non posso dire guarda potremmo farmi l'acciaio o farmi il no questa è bene in funzione ah perchè questa qua prendere la risorsa ah vedi che anche queste qua le devo girare allora qui devo mettere il nastro questo qua girarlo questo qui lo giro così così mi fa andare anche questo e qua invece lo faccio ritornare così e così così vedete 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 che le lamiere vedete che le lamiere ok così no 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 ecco qua devo girarlo esatto esatto ah ho capito quando prende la lamiera vedete vedete qui dovrei fare un altro divisore e dire la mia era a sinistra quindi eh eh vabbè ah ok prendete lui va in automatico quando vede una lamiera la trasforma in automatico in in acciaio allora qua gli dico di girarlo si 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 facciamo vediamo quante punizioni riusciamo a fare eh che ne dici ma meno quelle dieci cominciamo a farle adesso prendiamo bene un po' di lamiere d'acqua vedete qui raccoglie un po' di lamiere d'acqua vedete qui dovremmo mettere un altro come questo vedete che ci divide adesso qui dovremmo rimettere il nastro perchè si lavavate a mettere tante queste risorse ma la fine Grazie a tutti. 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 E' quello il punto della situazione. Però facendo così la lamina rimane dentro. Me la devo andare a prendere io. Perché se no continuo a girare e girando, dopo ricapita qui e allora me la trasformano. Se no potrei anche dire, guarda, non trasforma più le piastre in acciaio. Non so se si può. Vedete, sarebbe questa. Vedete, consente di fondere acciaio da piastre di ferro. Però ovviamente è una tecnologia che è sbloccata e bisogna stare attenti. Bene, direi che intanto che aspettiamo di avere, intanto vediamo un po' noi le risorse, le vediamo noi. Ma intanto c'è il salvataggio automatico. Aspetta. 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 Allora ancora un altro centinaio. Un altro centinaio. Beh dai, quest'altro centinaio farò per conto mio. Tanto vedete anche voi che qua. In realtà noi qui possiamo attivare anche queste. Ma la scontrate. In realtà noi le possiamo attivare tutte queste, ma solamente stare attenti. che non ci riprenda l'acciaio però se voi fate così prendiamo noi prenderla e prenderla basta solamente stare lì vicino e schiacciare la F se voi le dite solamente di prenderle vedete che questo qui è sbagliato adesso una di queste si è trasformata in acciaio non so quale questa se vuoi guardare che qui ci sia il simbolo che vi serve a voi vedete che è ancora qua la lamiera sta ancora girando che è andato sull'altro binario e quella girerà girerà fin quando non è stufa si in realtà dovrebbe avere un inizio e una fine questo qua è proprio un loop di nastri che è andato sull'altro binario adesso quello lì lo facciamo ben girare dove vogliamo non mi aspetta se no lo possiamo prendere anche noi appena arriva qui vedete che è andato sull'altro binario adesso praticamente qua su è andato da questa è andato da questa e l'ha fatto girare quindi noi lo troveremo qua vedete qua serve una specie di scambio dove dovrebbe dividervi delle varie risorse però non sempre funziona e allora io finisco di fare sti caricatori per riempire il bagliaio quindi alla prossima